Ciao, mi chiamo Rietta, ho 46 anni, sono sposata con Enzo da 24 anni. Io sono Enzo, ho 49 anni, vivo a Fiorenzuola. E ho tre figli naturali, uno di 21 anni, Luca. Marco, il più esplosivo, che ha 17 anni. E Silvia, che ha 14 anni. Con mia moglie Rietta gestiamo una casa famiglia della comunità Papa Giovanni. E questa è la nostra casa, dove in questo momento viviamo in 13. Ci sono Don Adamo, ci sono altre tre persone adulte e poi ci sono tre minori. Io ho sposato con Rietta ormai da quasi 25 anni. La vita con lei è stata veramente finora appagante e completa. Sono pienamente convinto che sia stata una delle fortune più grosse che mi siano capitate durante la mia vita. Abbiamo avuto la fortuna di essere una coppia molto unita, di volerci molto bene, di avere tre figli pieni di vita, pieni di tante risorse. I nostri figli, vabbè Luca è il primo, è molto timido, abbastanza chiuso, anche se poi pian piano col tempo ha vinto un po' questa sua timidezza. Vivo in questa casa famiglia da quando avevo tre anni. Marco è l'opposto di Luca, mi piace molto scherzare, è un po' come Enzo, è molto allegro. Ciao, sono Marco e sono il secondo figlio di Rietta Enzo. Mentre Silvia è un po' un misto, perché anche lei è molto timida, molto chiusa, però in alcune occasioni sa anche farsi valere, è molto generosa. Anche lei ha iniziato a fare qualche esperienza di volontariato così e mi piace perché sta crescendo veramente bene. Le mie passioni sono lo sport, in particolare il patinaggio artistico a rotelle. Penso davvero che sia una famiglia che ci si vuole davvero bene, questo per me è una cosa importante. La nostra famiglia è una famiglia molto bella, io sono molto contenta dei miei figli e anche di Enzo. Penso che la casa famiglia abbia arricchito tantissimo la nostra famiglia. Non saremmo la famiglia che siamo oggi se non avessimo vissuto queste esperienze della casa famiglia.